ecco nessuno pensa che il matematico oppure potrei dire il fisico potrei dire lo scienziato in generale sia un intellettuale ecco questo a mio avviso è uno dei problemi più grossi così come in italia se tu non sai un passo della divina commedia è un grave errore se non sai la legge della termodinamica o adesso ci metterei cos'è la curva esponenziale perché se siamo in questo problema a me pare proprio che venga da qui che non c'è una cultura generalizzata scientifica se non sai quello fa niente e per questo penso che la soluzione a questo una delle possibili soluzioni a questo problema sia una soluzione di tipo culturale